Ricordati chi sei è un progetto straordinario che abbiamo promosso come Dipartimento per le pari opportunità. Orgogliosa adesso di presentare questa bellissima canzone che dà la voce alla passione, al desiderio di ragazze e ragazzi che hanno compreso che la violenza contro le donne non ha mai ragione e che c'è un messaggio chiaro da dare a tutte le donne. Sei preziosa e ricordati che non sei più sola. Allo sapere a chi opera violenza apri quella porta, esci dalla violenza perché c'è tutto un mondo bellissimo che è pronto ad accoglierti e a restituirti quella libertà che ti è stata negata. Libera puoi aprire quella porta perché non sei sola e libera puoi ricominciare.